Sono 11 gli imputati che andranno a processo per la morte di Filippo Bagni e Piero Bruni, i due impiegati dell'archivio di Stato morti la mattina della 20 settembre 2018, intossicati dal gas Argon. Questo quanto stabilito dalla GIP del Tribunale di Arezzo questa mattina, Claudio Lara. Solamente due le posizioni di altrettanti imputati che sono state archiviate. Si tratta di Renato Concordia e Marino Frasca della Ideal Clima, per i quali il giudice ha rigettato la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla PM Laura Taddei. Avevano fatto la conformità dell'impianto nel 2006, quindi è una cosa piuttosto risalente. Di fronte al giudice Giorgio Marcheri, il prossimo 7 luglio saranno così 11 le persone che si siederanno sul banco degli imputati, tutti accusati di duplice omicidio colposo. Tra loro anche il vice comandante dei vigili del fuoco dell'epoca, Antonio Zumbo, il direttore dell'archivio Claudio Saviotti e l'ex direttrice Antonella D'Agostino. Quest'ultimi, nelle loro difese, avevano tentato di spiegare come le responsabilità andassero ricondotte al Ministero. Ci aspettiamo un approfondimento, soprattutto in punto tecnico, ci aspettiamo un approfondimento anche dal punto di vista dello svolgimento dei ruoli. L'ipotesi dell'accusa è quella che il malfunzionamento dell'impianto antincendio si sarebbe innescato da un vetrino non originale e da una valvola montata, il contrario di cui però nessuno si era accorto, nella catena di vigilanza. I familiari delle due vittime si erano già costituiti parte civile. Cosa è successo lo sappiamo, è un dato oggettivo. Di chi si ha la responsabilità aspetta il giudice giudicarlo.